Siamo in compagnia di Lorenzo Gauzzi, uno dei protagonisti del docufilm Come siamo dietro le quinte. Allora, Lorenzo, com'è stata l'esperienza di girare un docufilm che parlasse dei ragazzi, dei ventenni di oggi? Che esperienza è stata? Allora, soprattutto è emozionante perché il gruppo è fantastico. È un gruppo pieno di ragazzi con un gran bel vissuto, sono tutti, dal primo all'ultimo, ragazzi bravissimi, intensi, pieni di emozioni e hanno saputo sprigionare benissimo queste loro emozioni, talmente forti da tenere attaccati allo schermo chiunque vedesse il film. E la tua esperienza proprio personale, come hai vissuto questa follia pierpaulesca? Allora, già che la chiamiamo follia pierpaulesca, già abbiamo capito tutto. Il nostro caro regista Pierpaolo Segneri ci ha aiutato da morire, è stato molto difficile per me all'inizio perché non è facile stare davanti a una telecamera, però il regista ha saputo tenere bene le retini del proprio veliero e aiutarci tutti insieme a proseguire in questo nostro percorso. È stato divertente, emozionante e devo dire ogni giorno sempre più bello. Togliamo un attimo gli occhiali. Allora, la domanda a Lorenzo, perché consiglieresti la visione di questo docufilm? Come siamo dietro le quinte? È una bellissima domanda, perché se ognuno di noi vuole vedere il proprio aspetto interno, il docufilm è consigliato. Riesce a far vedere dentro di sé tutti gli spettatori. È un viaggio introspettivo fantastico, sempre più bello, puntata dopo puntata. È consigliato per il proprio viaggio introspettivo, per conoscere i ragazzi che ci sono, perché dal primo all'ultimo gli attori sono fantastici. E il film è venuto pieno pieno di emozioni. Penso che la cosa più bella del mondo sia proprio vivere le emozioni e il film per questo è azzeccato al mille per mille. Grazie Lorenzo. Grazie.